Uno sportello di informazione sulla donazione degli organi nell'area archeologica, una iniziativa di sensibilizzazione per promuovere la cultura della solidarietà in tema di trapianti, è stata infatti organizzata dall'Asala di Salerno in collaborazione con il Comune di Capaccio Pestum e il Parco archeologico di Pestum. La presentazione del progetto e l'apertura dello sportello si svolgerà giovedì 29 agosto alle ore 18 con ingresso libero presso il Parco archeologico. L'iniziativa rientra tra le attività previste dal progetto sportello amico trapianti dell'Asala nell'ambito di un più ampio programma operativo coordinato dal Centro Regionale Trapianti che ha come obiettivo quello di promuovere nel territorio di competenza la cultura della solidarietà e della donazione d'organo, creando rete fra il mondo della scuola, le istituzioni e le organizzazioni di volontariato e proponendosi quale strumento di orientamento, accompagnamento e informazione per donatori, potenziali donatori e pazienti in attesa di trapianto.